buongiorno signor buongiorno qualche problema vedo che mi stava guardando no nessun problema è che quando vedo lei un ricordo mi assala ah sì come mai mio marito faceva il ferroviere ah faceva il ferroviere in pensione si è fatto licenziare no non è possibile signore questo è un posto così tranquillo cioè deve aver commesso qualcosa proprio di grave è entrato nell'ufficio del capo stazione senza chiedere il permesso c'è uno entra nell'ufficio del capo stazione senza permesso e viene licenziato no non è possibile e qual è andratto con tutta la locomotive guiato lo devo sfraganare